Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo glorioso video oggi sono super contento perché come avrete capito da titolo e copertina siamo di fronte a nove gadget accuratamente selezionati da me che spiccano per tecnologia design e utilità questo è il secondo video di una serie il primo ve lo lascio qui sopra nelle informazioni quindi mi raccomando per supportare questa tipologia di contenuto vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace qui sotto ed iscrivetevi al canale perché ne arriveranno tanti altri iniziamo con il primissimo prodotto che è anche il principe della copertina quello che probabilmente salta di più all'occhio stiamo parlando di questo proiettore portatile di provenienza cinese per quanto riguarda diciamo la parte produttiva infatti lo vedete là sopra il brand è jimmy che effettivamente non ho mai sentito ma mi ha veramente stupito tantissimo per quanto riguarda qualità usabilità e soprattutto design molto bello molto piacevole ricorda vagamente i sonos che io già possiedo qui nel mio salotto e può veramente farle la differenza se volete allestire un setup diverso dal classico televisore oppure qualcosa di più temporaneo da condividere con gli amici quando dovete vedere una partita dovete vedere un film tutti insieme o che ne so magari come accessorio da montare nella vostra camera da letto in cui non volete magari un televisore ma volete qualcosa da proiettare sul soffitto punti di forza il fatto che c'è un design acustico pensato da harman kardon lo vedete scritto sul reto e sulla confezione quindi possiamo già intuire da questo fatto che tutta la parte laterale che vedete bucherellata nella parte grigia è in realtà un autoparlante sul retro abbiamo la possibilità comunque di connettere con il jack qualsiasi altro nostro dispositivo in nostro possesso oppure connettere via bluetooth in modo da evitare cavi e casini in giro grande grande figata il fatto che abbia la messa a fuoco automatica lui lo potete puntare in una qualsiasi parete di vostro gradimento capirà da solo le proporzioni del muro capirà quanto è distante effettivamente la lente e si occuperà in maniera totalmente automatizzata di mettere a fuoco di raddrizzare l'inquadratura insomma non dovete perdervi con mille rotelline scomode di fatto monta all'interno un dispositivo android tv quindi potete evitare anche di utilizzare le porte sul retro avete un hdmi per eventualmente dargli un input analogico ma più interessante secondo me connetto alla wifi e visionare video su youtube netflix eccetera direttamente con il telecomando in dotazione oppure con il vostro smartphone controllandolo da remoto per quanto riguarda la qualità non arriva neanche al full hd ma vi assicuro che non è così tanto un problema perché voi comunque vi posizionerete ad una certa distanza dal muro e quindi fondamentalmente l'immagine risulterà comunque super nitida a tra l'altro può arrivare a proiettare su una superficie per raggiungere fino ai 100 pollici di diagonale quindi veramente può fare la differenza molto molto consigliato mi permetto di raccontarvi adesso un piccolo segreto per riuscire ad ottenere i biglietti aerei al prezzo più conveniente possibile sto parlando di un utilizzo intelligente di una vpn in questo caso nordvpn che oltre a servirvi come sistema di protezione diciamo durante la vostra navigazione online quando siete su wifi pubblici eccetera eccetera vi permette di evitare il sistema di profilazione e tracciamento che adottano ovviamente le compagnie aeree durante l'acquisto di un biglietto online sui loro siti infatti le compagnie ovviamente sanno se ci sono delle tratte preferenziali durante un certo periodo dell'anno a seconda della città di provenienza quindi nell'esempio che state vedendo a schermo da denver a londra o da londra a denver il biglietto cambia moltissimo se lo comprate a partire dal fatto che siate fisicamente locati a londra o fisicamente locati a denver quello che serve sapere a voi ovviamente è il fatto che vi serve un servizio come nordvpn in cui potete semplicemente selezionare la città di destinazione e risultare effettivamente provenire da lì molto molto comodo e smart ovviamente qui sotto in descrizione troverete il link per andarvi a scaricare il software utilizzate anche il codice ottocliman per avere un 81 per cento di sconto sul piano triennale insomma ci sono un sacco di offerte trovate ovviamente qui sotto tutto nel box informazioni continuiamo con il video secondo prodotto di cui voglio parlarvi qualcosa che può tornarvi utile soprattutto in questo periodo di influenze e febbre stagionali stiamo parlando di un termometro di nokia io vi assicuro non avevo idea che nokia facesse termometri ma è un termometro smart innanzitutto notate design assolutamente premiatissimo per quanto mi riguarda molto bello come oggetto non ha assolutamente quel look medicale che potrebbe disturbare a me disturba sicuramente vedere degli oggetti che ricordano gli ospedali in questo caso il prodotto è assolutamente di design per quanto riguarda sia le forme che i colori scelti la parte bella è che è un termometro ad ultrasuoni quindi voi dovete solo premere il tasto passarvelo sulla fronte in un unico rapido movimento e poi utilizzare il display in dotazione per leggere effettivamente la febbre molto utile perché ci si mette un decimo di secondo a fare appunto questa misurazione che può essere scomoda e tediosa con i termometri diciamo da ascella bello perché abbiamo un display diciamo a micro led posizionato sul fianco che vi dà la temperatura misurata istantanea ma molto interessante perché potete configurare più utenti all'interno del termometro e potete quindi tenere traccia di tutte le misurazioni di febbre fatte per ogni singolo membro della famiglia parte veramente utile è il fatto che si connette via bluetooth al vostro smartphone potete tenere quindi uno storico di tutte le vostre misurazioni ed associarle eventualmente anche dei sintomi può essere utile soprattutto per chi ha dei bambini da gestire oppure per tenere traccia insomma dei propri progressi e poi mandare tutto al vostro medico terzo prodotto qualcosa che utilizzo da un sacco di tempo che mi sono trovato a dover upgradare negli ultimi giorni perché voglio distribuirlo su altri termosifoni della mia casa stiamo parlando delle teste termostatiche tado fondamentalmente delle teste smart che si connettono direttamente ai vostri termosifoni di casa ovviamente se avete un riscaldamento centralizzato e con un rapido movimento potete chiaramente sostituire la vostra manovella analogica con qualcosa di molto più interessante infatti queste teste termostatiche possono essere sia controllate direttamente da applicazione quindi si integrano all'interno di apple home kit potete utilizzare siri per comandarle potete connetterle ad alexa e comandarle con alexa ops l'ho fatta partire potete connetterla a google home insomma tutto può essere completamente automatizzato nulla toglie che potete anche semplicemente operare manualmente poi sulla piccola ghiera che è posizionata proprio sulla testa sul lato superiore appaiono le informazioni quindi la temperatura settata nella stanza ma la parte più interessante è sicuramente il fatto che potete fare delle macro che permettono di controllare la temperatura della vostra casa in maniera più o meno automatica sempre per rimanere in ambito tra virgolette domotico voglio parlarvi di questa videocamera smart di xiaomi molti sono i prodotti xiaomi che sto introducendo all'interno della mia casa smart negli ultimi periodi perché li trovo veramente ben disegnati funzionano bene l'app è costruita in maniera intelligente e quindi mi sembra qualcosa che posso tranquillamente consigliarvi a cuor leggero in questo caso la telecamerina oltre ad essere particolarmente carina dal punto di vista estetico secondo me super efficace da posizionare in qualsiasi punto della casa senza troppo timore di diciamo rovinare o sporcare l'estetica della vostra abitazione avete anche eventualmente la possibilità di appenderla perché viene in dotazione con una placca metallica eventualmente da fissare a parete la parte più utile è il fatto che è controllabile da remoto tramite la comoda applicazione di xiaomi e potete orientare diciamo il suo campo visivo infatti ruota a 360 gradi sia in laterale diciamo quindi può fare un pan attorno a una stanza ma soprattutto può alzare e abbassare alla parte del sensore per guardare in alto in basso molto comodo perché potete veramente sorvegliare in maniera magica tutto quello che avete a disposizione in un giardino visto magari dall'interno oppure in una stanza particolarmente grande ha un bel grand'angolo però ovviamente questa cosa qui aiuta tantissimo proseguendo qualcosa che mi sento di consigliarvi a spada tratta perché io ne mangio veramente tantissimi durante il mio anno di lavoro stiamo parlando di hard disk a stato solido anche se so che non si dovrebbero chiamare hard disk però insomma ci siamo capiti questo qui è uno stato solido hyper ex con questa estetica un pochino da gaming di kingston grande punto di forza è che è discretamente veloce non stiamo parlando del top di gamma assoluto però comunque ha una buona velocità di lettura e scrittura ma soprattutto costa veramente pochissimo quindi in questo senso mi sento assolutamente di consigliarvelo come strumento di passaggio dati super rapido io nello specifico lo uso per esempio per editare video posso mandare tutto direttamente in editing al suo interno e stare tranquillo usb c sul retro ovviamente per i trasferimenti file ad alta velocità usb c con cavo in dotazione con il mio macbook è veramente incredibile piccolo prodottino bianco e stondato in realtà è questa questo paio questa coppia di auricolari di puro li ho conosciuti veramente da pochissimo ma sono fenomenali soprattutto per l'estetica come vedete un piccolo confettino bianco super trasportabile anche un pochino femminile come come design che sta veramente ovunque con due piccoli auricolari magnetici che si possono innestare all'interno delle vostre orecchie sono chiaramente full wireless quindi non avete il problema dei cavi che potrebbero disturbarvi ovviamente non immaginatevi qualità sopra fine visto che comunque il prezzo è anche discretamente contenuto ma può essere veramente un'alternativa interessante sono auricolari in ear vi permette quindi di parzialmente rimuovere quello che è il suono proveniente dall'esterno ed essere insomma abbastanza sereni per quanto riguarda l'ascolto proseguendo abbiamo per le mani un case uno smart battery case per il vostro iphone per quanto mi riguarda è un prodotto che mi ha veramente cambiato la vita quando sono in giro perché evito di portarmi dietro dei power bank con il cavo che sono scomodi che devo lasciare in zaino insomma questo è un oggetto che si innestra sul vostro telefono e vi risolve praticamente l'intera giornata sul fianco abbiamo anche un piccolo tastino che ci permette di lanciare automaticamente la vostra applicazione fotocamera in modo da poter scattare in maniera immediata quando vi trovate in una certa situazione anche questo devo dire si è rivelato veramente comodo per quando sono appunto in giro simpatico perché poi tutta la parte di gestione della carica di batteria potete controllarla direttamente dal sistema operativo da ios avete il widget che vi permette di tenere tutto sotto controllo molto smart molto comodo non particolarmente economico altro prodotto altra corsa insta 360 go questo piccolo confettino questo oggettino che si applica direttamente al petto con un magnete o con una collana o insomma come preferite e vi permette di fare delle clip di 30 secondi o un minuto quando siete in giro registra l'audio registra tutto in wide angle quindi è una specie di macchina da vlog completamente automatica che con un semplice tocco vi permette di raccontare il mondo ne ho parlato diffusamente in un video dedicato ve lo lascio qui sopra nelle informazioni ma vi assicuro che per quanto riguarda l'utilità di un oggettino così se siete gente che deve raccontare un po quello che gli succede quando in viaggio è sicuramente il game changer ulteriore prodotto che spicca soprattutto per quanto riguarda la componente economica è questo smartphone di realme ne avevo già parlato in un unboxing ho detto che l'avrei testato effettivamente è un prodotto molto simpatico per quanto riguarda le sue caratteristiche bello leggero bello anche nel design quattro fotocamere abbiamo la possibilità veramente di cambiare tantissime ottica a seconda della situazione che vogliamo raccontare e questo per quanto mi riguarda è un grande punto di forza bello il notch posizionato nella parte diciamo alta a goccia mi piace molto come hanno integrato il tutto nello schermo gigantesco punto di forza di un dispositivo di questo tipo è soprattutto il rapporto qualità prezzo potenza in questo caso siamo veramente a dei livelli molto alti perché lo sapete realme punta principalmente su questo aspetto quindi dato un'occhiata al link qui sotto in descrizione perché sicuramente è addirittura sceso di prezzo rispetto al diciamo periodo di lancio ultimo prodotto qualcosa che non dovrebbe stare nelle mie mani ma dovrebbe star innestato all'interno di un paralume è una lampada smart di xiaomi sono lampade bluetooth non hanno bisogno di un hub come per esempio le philips u che devono appunto essere connesse poi al vostro modem insomma tanti casini lei si infila nella plafoniera vostra preferita si connette all'app di xiaomi e potete controllare luminosità potete accenderla potete spegnerla potete ovviamente anche decidere di cambiare il colore perché questa è una lampadina rgb prezzo molto contenuto avete la possibilità di controllarlo ovviamente tramite google home o tramite alexa e quindi in questo senso si integra perfettamente in qualsiasi casa domotica detto questo che altro direvi qui sotto in descrizione ovviamente vi lascio il link a tutti i prodotti di cui vi ho parlato oggi spero che vi siano piaciuti vi siano interessati spero vogliate vedere altri video come questo perché io rimango sempre qui e vi saluto vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace qui sotto per supportare questa tipologia di video ma noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video